Buongiorno a tutti. Dopo l'ultimo DPCM che ha ripristinato l'obbligo della didattica a distanza fino al 75%, le scuole hanno riattivato le procedure per la DAD che avevano lasciato lo scorso mese di maggio. E tra le varie soluzioni che stanno approntando i dirigenti scolastici qualcuno di questi sta di fatto obbligando i docenti allo svolgimento della didattica a distanza dai locali della scuola. Ci sono giunte infatti alcune segnalazioni in merito, ossia di alcuni dirigenti che hanno previsto lo svolgimento in via esclusiva della DAD dalle aule scolastiche ai docenti. In realtà questo problema era sorto durante una delle nostre dirette in cui molti docenti, soprattutto precari, si erano lamentati circa le difficoltà riscontrate nello svolgimento della didattica a distanza dal proprio domicilio o per limiti di natura tecnica dei propri dispositivi o per addirittura difficoltà nel sostenere gli oneri per la connessione internet. In questo caso si era in qualche modo suggerito a questi docenti di richiedere la possibilità ai dirigenti di svolgere la didattica a distanza da scuola utilizzando la strumentazione informatica e la linea internet dell'istituto. Questo suggerimento in qualche modo è stato colto da qualche dirigente nel senso di poter ritenere obbligata l'attività didattica dai locali scolastici. In realtà non è così perché da un lato non si rinviene alcuna norma che lo specifichi in maniera espressa a questo obbligo, dall'altro la stessa razio della normativa anti-epidemia in materia di Covid è quella di evitare al massimo la circolazione delle persone. Quindi lo scopo è quello di mettere in circolazione meno persone possibili, quindi mantenere gli oneri a casa e lasciare i lavoratori in modalità smart working, quindi lavorare a casa. Lo stesso vale anche per i docenti, quindi obbligare i docenti ad andare a scuola per svolgere la DAD si porrebbe in contrasto con lo scopo della norma che è quello di evitare al massimo la circolazione. Un altro punto dolente della didattica a distanza che è emerso in questi giorni riguarda i molti purtroppo docenti sottoposti a quarantena fiduciaria e obbligatoria, ma non affetti da Covid. In questo caso, dopo la circolare ministeriale del 26 ottobre, che si rifà alle indicazioni della nota IMSS del 9 ottobre, la stessa bozza della stessa ipotesi di contratto integrativo sulla didattica a distanza prevede che i docenti sottoposti in quarantena fiduciaria sarebbero tenuti allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, naturalmente dal proprio domicilio. In realtà è la stessa IMSS che precisa che questi lavoratori, non essendo di fatto malati, sebbene ci sia una equiparazione del loro status allo stato di ricovero ospedaliero, possono benissimo essere considerati idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto la circolare del 26 ottobre e la stessa ipotesi di CCNI prevedono che questa categoria di docenti, appunto sottoposti a quarantena fiduciaria e obbligatoria, possono essere chiamati allo svolgimento della didattica a distanza dal proprio domicilio. Grazie e arrivederci.